Nel 1994 esce nel sale Forrest Gump, film che narra le vicende di un uomo americano della particolare sensibilità, che per una serie di fortuite e coincidenze si ritrova testimone dei principali eventi della storia americana del Novecento. Un film commovente e a tratti ironico, che colpì il pubblico e la critica, guadagnandosi ben sei premi Oscar, tra cui quello come miglior attore a Tom Hanks. Con questo arrangiamento per banda verrete trasportati nella sua storia, proprio come nel film, con la leggerezza di una piuma. Ecco a voi Forrest Gump Suite di Alan Silvestri. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.